Come abbiamo visto nel video dedicato alle auto elettriche, anche per le ibride l'offerta comincia a essere abbastanza ampia, ma non così sterminata come tra le benzina e le diesel. In questo video andremo a vedere quali sono le ibride che consumano meno. Prima di cominciare però vi ricordo che cliccando qua su in alto a destra potete vedere tutte le automobili in vendita in Italia e scoprire quanto potete risparmiare su drivek.it. Cominciamo dalle utilitarie. Quella che consuma meno in assoluto è la Toyota Yaris Hybrid. Seguono la Suzuki Swift, la Suzuki Ignis e la Suzuki Baleno. La prima in classifica monta un motore a combustibile 1.5 di cilindrata, le altre tre un motore 1.2. Non è l'unico hybrid disponibile però nella gamma Suzuki, c'è anche un 1.000 turbo. La Yaris Hybrid fa meglio della Suzuki Swift solo con l'allestimento Active. Quello base che è più leggero, almeno questo secondo i dati dichiarati. Nel caso in cui ci sia invece un altro allestimento, la Yaris Hybrid consuma di più rispetto alla Suzuki Swift ed è un risultato particolarmente incredibile se pensate al fatto che la Yaris Hybrid ha una motorizzazione full hybrid e quindi può viaggiare alle basse velocità col motore a benzina spento e utilizzando soltanto energia elettrica. Al contrario la Swift deve sempre fare affidamento sul 1.2 Dual Jet che è una motorizzazione che comunque rimane sempre attiva e poi c'è ovviamente insieme la motorizzazione elettrica che permette di recuperare energia in frenata e reinserirla nel sistema quando c'è una riaccelerazione. Tra le compatte ritroviamo le automobili tra i 4 metri e i 4 metri e i 50. Toyota Prius è la prima in classifica, 3,3 litri su 100 km nel ciclo combinato, 3,1 nell'urbano e 3,4 in extraurbano. Subito dopo la Toyota Corolla Hybrid e poi la Corolla Hybrid però con il motore 2000. Sono due le motorizzazioni disponibili sull'ultima generazione di Corolla. Poi segue la Hyundai Ioniq e infine la Lexus CT Hybrid. E qui è un tripudio di Toyota, sicuramente la regina di questa classifica. Troviamo in cima la Toyota Prius favorita da un'aerodinamica molto favorevole a questo tipo di automobili con una carrozzeria studiata apposta per penetrare l'aria e quindi bruciare il meno possibile di carburante ma è particolarmente importante notare anche i risultati fatti dalle Corolla con il 1800 e il 2000, gli ultimi due motori inseriti in gamma e in questo caso abbiamo un secondo e un terzo posto. A rovinare un po' la cinquina dei migliori risultati c'è la Hyundai Ioniq che riesce a fare addirittura un quarto posto e a conquistarsene in maniera meritata secondo me e poi infine la Lexus CT Hybrid che comunque utilizza lo stesso sistema di Toyota perché fanno parte dello stesso gruppo industriale. Tra i SUV sia compatti che medi ritroviamo la Kia Niro che fa il risultato migliore 3,4 litri su 100 km nel ciclo combinato segue la CHR Hybrid 3,8 litri e poi la Kia Sportage e la Toyota RAV4. In questo caso la situazione si ribalta completamente con la Kia che occupa due posizioni la prima con una full hybrid della Niro e la terza che riesce comunque ad avere un risultato veramente incredibile se considerate che di nuovo si tratta di una mild hybrid accoppiata ad una motorizzazione a gasolio un 1.6 gasolio che riesce a fare meglio anche di una full hybrid come quella della Toyota RAV4. All'interno di questa classifica non abbiamo preso in considerazione le plug-in che sono un altro tipo di ibride, quelle ricaricabili che sicuramente avrebbero fatto decisamente meglio di tutto il resto però in realtà in questo caso è ancora molto difficile riuscire ad avere tutti i dati ufficiali delle plug-in, delle elettriche l'abbiamo visto anche in altro caso e anche nel caso di altre automobili ibride, anche full hybrid o mild hybrid non sempre ci sono dei dati dichiarati in maniera ufficiale, espressi in maniera molto chiara dalle case. Vi ricordo che appunto per fare questi video, queste serie di video, ho utilizzato sempre i dati ufficiali. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, vi abbia fatto capire più o meno quanto possono consumare anche l'automobile a cui siete interessati. Noi ci vediamo alla prossima sempre qui su DriveK, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao! Ciao! Ciao!